Il fenomeno della Movida è un fenomeno che non va demonizzato, ma va governato. Una norma nazionale del 2004 ha liberalizzato la possibilità da parte degli imprenditori di aprire esercizi pubblici per la vendita di alcolici e di bevande, sottraendo al comune, all'ente locale, la possibilità di governare queste aperture secondo dei parametri che tenessero conto anche e soprattutto della vocazione residenziale dei luoghi dove questi esercizi aprono. Noi già con l'assessore armato abbiamo adottato come amministrazione una delibera che consente di congelare l'apertura di nuovi locali per i prossimi tre anni. Nel regolamento di sicurezza urbana abbiamo inserito una norma che a fronte di reiterate violazioni in materia di vendita di alcol e in materia di inquinamento acustico da parte degli esercizi pubblici possiamo applicare una prima sospensione di sette giorni, una seconda di trenta giorni e arrivare alla revoca del titolo autorizzativo di questi esercizi. Per cui a breve, il giorno 22, avremo una riunione con il SUAP, con l'assessore armato e con i miei della Polizia Municipale per fare un punto di situazione e una verifica dell'applicazione di questo regolamento in maniera di poter dare un segnale ai titolari di esercizi pubblici che non seguono le regole, non si impegnano per trovare un giusto equilibrio che noi applicheremo in maniera rigorosa le sanzioni che il regolamento di sicurezza urbana prevede.